Buongiorno e bentrovati, oggi ci troviamo al Passo del Tonale, la location nell'hotel delle Alpi. Siamo in compagnia di Stefano Negri, che è qui appunto a fianco a me ed è appunto il proprietario anche del gruppo Iride Hotels. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti voi. Allora Stefano, quest'anno è un'estate un po' particolare, partiamo dagli alberghi. Un'estate molto calda e i turisti cercano il fresco, pertanto quest'anno gran pienone. Abbiamo avuto un inizio di stagione buono, c'è stato il ritorno anche di molte clienti da straniera, abbiamo avuto diversi arrivi dal nord Europa e con soddisfazione perché erano due anni che mancavano e abbiamo dei buoni arrivi anche sul mercato italiano come sempre durante l'estate. Ecco, quali sono le differenze tra questo tipo di estate e quella pre-pandemia? È caratterizzata da prenotazioni un po' più sottodate, siamo tornati al pre-pandemia con prenotazioni un po' più ravvicinate, la gente guarda il tempo, vede le temperature in città e si organizza le vacanze all'ultimo anche se rischiano di restare poi senza disponibilità perché la montagna quest'anno sta funzionando abbastanza bene. Ecco, voi fino a quando sarete aperti come hotel? Noi saremmo aperti fino a fine settembre, noi proponiamo una vacanza attiva, noi siamo nella cantina dell'hotel dove abbiamo più di 1500 diverse etichette di vino, siamo appassionati, però durante il giorno cerchiamo di proporre vacanze attive organizzando delle escursioni di diverse difficoltà, abbiamo il nostro accompagnatore di media montagna che accompagna i nostri clienti in escursioni interessanti e devo dire che c'è molto ritorno anche da questo punto di vista, la gente vuole spazi aperti, vuole avere la possibilità di godersi la natura e il fresco delle nostre zone che per fortuna è garantito sempre anche in stati così calde e torride. Ecco, hai accennato poc'anzi appunto la location dove ci troviamo, la cantina dell'hotel delle Alpi che è ben formita, 1200 bottiglie, etichette e soprattutto tu sei anche un grande appassionato di vini e insieme a tuo fratello avete anche altre strutture come ad esempio il 625 a Ponte di Legno che è un'enoteca aperta al pubblico appunto con cucina, giusto? Sì, è l'ultimo nato del gruppo, è un wine bar, il 625 prende il nome dalla dimensione della bottiglia, quindi 75 cl della bottiglia di vino viene riproposto nel nome del locale, è anche un cocktail bar serale, quindi proponiamo sia il vino che il mixology come viene chiamato i cocktail e una cucina semplice ma di qualità. Poi per quelli che vogliono avere un pranzo o una cena più completa, proponiamo i nostri due ristoranti, il ristorante Pizzeria Alta Bià che è di fianco al 625 e il ristorante El Volt Gourmet che abbiamo a 200 metri sempre dalla stessa attività. Benissimo, Stefano vuoi dare i contatti, i numeri per potervi contattare, effettuare una prenotazione sia per l'hotel che eventualmente anche per le strutture ristorative? Hotel delle Alpi, dove siamo adesso, al Passo del Tonale, il numero è 0364903919, il nostro sito è hotel-dellealpi.com e per tutto il gruppo abbiamo il sito iridehotels.com e per quanto riguarda i ristoranti do il numero del ristorante El Volt che è 036492050 e comunque tutte le altre attività le trovate sul sito oppure chiedendo direttamente alle nostre due attività del Tonale e di Ponte a cui ho dato riferimenti. Benissimo Stefano, io ti ringrazio per questi minuti dedicati, ti auguro una buona estate e una buona estate a tutti coloro che ci guardano.